Ci sono dei luoghi sul nostro territorio che noi riteniamo abbastanza non ideali per poter realizzare una struttura di concentro di accoglienza. Queste che vedete sono quelle relative alla posizione dove si trova la stazione ad esempio, dove è vietato nei vicinanzi 150 metri la realizzare dei centri, la struttura, l'immobile centro di accoglienza per i migranti. Nelle zone rosse ci sono anche tre scuole, sono tre plessi scolastici sostanzialmente. Franchimenti mi è tolto perché abbiamo fatto molti trucchi e a Colosio non abbiamo problemi con le persone. Ci sembra veramente una cosa che non si capisce il perché. Perché la scuola? Perché una biblioteca? Perché un oratorio? C'è un'emergenza? C'è un problema? No, qui no, noi non lo vediamo. Noi non abbiamo avuto problemi particolari anche perché i migranti sono tra i nostri studenti, quindi semplicemente sono accolti all'interno della scuola come vuole l'ordinamento dello Stato. Dunque Sindaco da quale esigenza nasce questo provvedimento? A qui a pochi chilometri, a Lecco c'è un centro di accoglienza dove sono state fatte già più volte rettate, trovate droga, c'è lo spaccio eccetera eccetera. Avere un centro con quelle prospettive dopo, nel senso quando si è costruito, poi è difficile poi da sradicarlo. Se qualcuno mi costruisce un centro e nasce questo problema, poi diventa difficile da... Quindi c'è tutto il territorio dove è possibile fare un centro di accoglienza, facciamolo laddove io ritengo che sia più utile per i migranti e per i cittadini. E una persona che di trovare volontà e franchement c'è ça qui mi intende, perché non voglio poi c'è una cosa che è il problema con le gianni di Calossio, franchement. E' la stessa regola applicata per fare da gioco slot machine, ma non c'è nessun accostamento tra slot machine e migrante. Si, il metodo però diciamo la razio è la stessa. La tecnica di misurazione della distanza. Equiparandolo a un problema reale, perché c'è un problema e noi come Gabbiano appunto ci occupiamo anche di loodopatia e non capiamo il perché ci sia questa equiparazione, le persone che vengono accolte non sono un problema, non sono una minaccia per nessuno, quindi fare un tipo di provenimento del genere ci sembra veramente fuori luogo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.